Oggi vi propongo un'idea di pasta super veloce, la pasta panna e parmigiano, un primo piatto velocissimo, facile ed economico. Vi serviranno solo tre ingredienti, parmigiano, panna e pasta. Si prepara nel tempo di cottura della pasta, bastano davvero pochissimo tempo e si porta in tavola un piatto semplice e gustoso. Mettete a cuocere la pasta in una pentola con un'abbondante acqua salata. Adesso possiamo preparare il condimento. In una padella antiterente scaldate 200 ml di panna e il parmigiano, 5 cucchiai di parmigiano grattugiato, facendo attenzione che la panna non si addensi troppo e che il parmigiano si ammorbidisca. Quindi a questo punto scolate la pasta e ragazzi tenete da parte un po' di acqua di cottura perché è fondamentale da aggiungere in padella per mantecare la pasta, qualora ovviamente servisse. Unite la pasta al condimento e aggiungete la pasta alla crema di panna e parmigiano. Amalgamate benissimo il tutto, sempre su un fuoco medio-basso e completate la cottura. Porzionate e servite la pasta, panna e parmigiano ben calda. Questa ricetta è una ricetta ideale quando avete pochissimo tempo e avete ospite all'improvviso, potete preparare un piatto davvero gustoso, velocissimo ma soprattutto irresistibile. Se provate questa ricetta super facile, che ovviamente molti di voi conosceranno perché non è una vera e propria ricetta, diciamo che è un'idea, un'idea di pasta veloce, fatemi sapere cosa ne pensate. Come avete visto ho messo anche pochissima acqua di cottura per mantecare bene il tutto e alla fine ancora parmigiano grattugiato. Provatela e fatemi sapere cosa ne pensate. Vi aspetto sul mio canale YouTube Cartesia, iscrivetevi e attivate la campanella perché se attivate la campanella ogni volta che pubblico un video vi arriva subito la notifica. Ciao, baci da Cartesia!